La mobilità sostenibile è una necessità assoluta e è il nostro futuro, quindi prima avviciniamo al futuro meglio è. È una necessità perché c'è uno spreco energetico, nel senso proprio dell'entropia che si genera, uno spreco di risorse che non possiamo più permetterci e buona parte dello spreco sta nella quotidianità dei comportamenti e le città e i sistemi urbani sono gran parte di un consumo esagerato ormai fuori dalla logica perché abbiamo tecnologie come si dimostra in questo caso che possono davvero cambiare i modelli di uso, in questo caso per lo spostamento, per il lavoro, per lo svago e quindi dobbiamo avere città che sono laboratori di innovazione, laboratori incrementali, quindi non più fare solo sperimentazioni ma rinnovare pezzo per pezzo proprio il modo d'essere nelle città e io vedo che ci sono avanzamenti tecnologici molto interessanti e quindi il salto di qualità è alla nostra portata, bisogna diminuire il divario tra le tecnologie, le possibilità della scienza e la politica e quindi le decisioni pubbliche, oggi questo è un imperativo e quindi chi fa il sindaco nella sua dimensione deve impegnarsi a fondo per questa priorità, non è una priorità, è la priorità. Nella sua città ci sono già diverse colonnine per la ricarica delle autovetture, svilupperebbe anche su altri mezzi queste iniziative, queste agevolazioni per gli utenti? Io sono per la mobilità elettrica da A alla Z, nel senso che noi stiamo facendo un grande progetto, un people mover che collegherà la stazione centrale con l'aeroporto e è mobilità elettrica, pensiamo il collegamento della stazione, del centro cittadino con il nuovo ospedale di Citanello con la mobilità elettrica, abbiamo questa sperimentazione fatta all'inizio con Enel e Mercedes, poi allargata da altre aziende, abbiamo esperienze di car sharing elettrico che vanno avanti, è chiaro che più i mezzi saranno efficienti e efficaci allo scopo, auto elettriche, city car, ciclomotori elettrici, biciclette elettriche come nel caso che qui vediamo, più il sistema diventerà completo, energicamente conveniente e economicamente assolutamente conveniente per le famiglie, per i cittadini, per i produttori. E' stato presentato in questi giorni il raddoppio della ferrovia Firenze-Viareggio, ci saranno anche dei miglioramenti per il traffico ferroviario verso Pisa? Spero di sì, perché dobbiamo vedere questo sistema con una circolare ferroviaria, noi fra Firenze, Pisa, Lucca, l'area costiera, Livorno, abbiamo la vera area metropolitana toscana di livello europeo, abbiamo fortuna impareggiabili perché siamo detentori di un patrimonio economico, ambientale, turistico, culturale, eccezionale, quindi bisogna essere solo bravi a fare gli investimenti giusti e a valorizzare questo patrimonio, bisogna crederci e diventare l'esempio di un'Italia che si risolleva e diventa davvero prima nel creare una crescita sostenibile che dà lavoro e che dà tante soddisfazioni. Grazie signor Sindaco, buongiorno.